Amici e colleghi e utenti della piattaforma Paralel Time, buongiorno da Giovanni Lapidari è giovedì 18 giugno, sono le 9.37 di mattina hanno aperto da poco sia i mercati dei future europei, di cui stiamo vedendo adesso sul nostro monitor il grafico dell'Eurostox Future, che quello degli indici che aprono invece le 9. Le contrattazioni hanno evidenziato per i motivi di tensioni geopolitiche che già si sanno e che non faranno però parte dell'argomento di questo video una notevole volatilità e un decoroso scambio di volumi e proprio sull'argomento dei volumi e del book oggi vogliamo porre la nostra attenzione perché dai nostri grafici oltre che le numerose indicazioni che possiamo ricavare in termini di tecniche di analisi grafica e di uso di indicatori oscillatori abbiamo però delle informazioni che provengono direttamente dal book di cui oggi ho piacere di parlarvi. La prima informazione che voglio farvi vedere è proprio quella relativa alle contrattazioni sul book. Lo strumento di Eurostox è uno strumento decisamente anch'esso contraddistinto in questi tempi da una buona volatilità ma le indicazioni che il book ci offre sono estremamente interessanti ma dobbiamo sdoppiarle in due tipi. Una è l'indicazione del book vero e proprio, una è l'indicazione del cosiddetto time and sales che è poi una modalità di rappresentazione degli scambi delle quotazioni di cui forse poco spesso si parla e che potrebbe essere argomento soprattutto su strumenti a carattere azionario sul quale dedicare invece del tempo. Sul book vediamo una cosa molto interessante. Sul grafico abbiamo posto un'indicazione settabile dalla struttura delle opzioni della piattaforma che ci mostra e consiglio a tutti di farla il massimo del giorno e il minimo del giorno che sono ai prezzi 3422 attualmente e 3396. E questa è una prima indicazione. Questa indicazione ci viene replicata al momento attuale il range dei prezzi ancora sufficientemente compresso dalle due righe molto più scure delle altre che sono quella dove il mercato ha fatto il suo minimo 3396 sul book e dove il mercato ha fatto il massimo. Al di sopra vedete che i prezzi che sono indicati in eretto indipendentemente che siano i prezzi al di sopra dei quali il grafico potrebbe muoversi o al di sotto del quale il grafico potrebbe muoversi vedete che sono messi in grassetto e non ci sono scambi e contrattazioni. Accanto nella colonna colorata in verdino e nella colonna colorata in rosino tutte settabili e perfezionabili e personalizzabili anch'esse ci sono le migliori proposte rispettivamente in acquisto e in vendita. Vedete che in questo momento la volatilità si è un attimo calmata perché il range e lo spread del denaro lettera a differenza di altri strumenti quali per esempio il DAX è contenuto tra 3413 e 3440. Il mercato si è sufficientemente assestato come del resto si può vedere anche analizzando i prezzi in una parte mediana fra i massimi e i minimi. Quello che ci interessa vedere però sono due cose. Quali sono le proposte che si stanno eseguendo e che stanno passando? Vedete che in questo momento passano circa 15, adesso 6 contratti. Quando la proposta è indicata in rosso significa che sono contratti dove c'è una pressione di vendita maggiore dove quindi il venditore sta vendendo probabilmente con uno slippage di un punto. Quando invece la casella si illumina di verde indipendentemente dalla la quantità che c'è dentro la casella stessa significa che c'è una pressione in acquisto. Quindi in questo momento stiamo vedendo che i prezzi fermi sul livello di 3413 lo sono perché c'è un mercato dove sono prevalenti, vedete, che tutte le volte che il mercato sale di prezzo a 14 è probabilmente perché c'è una pressione in acquisto. Invece in questo momento la pressione è un pochettino più verso il lato delle vendite che verso il lato degli acquisti. Quello che però mi interessa farvi vedere è dove sta lavorando il mercato adesso e che cosa ha sviluppato in termini di rapporto prezzi-volumi. Questo lo possiamo vedere in diversi modi. Lo possiamo vedere come dicevo prima col Time and Sales che lo metto qui accanto ma lo possiamo vedere anche da un histogramma che poche piattaforme hanno che è questo. Ve lo allargo un poco per evidenziarlo meglio perché ritengo che sia importante dare adesso il giusto spazio. Vedete che qui avete un histogramma molto più ampio nella zona fra 3411 e 3409. Accanto ci sono dei numeri. Cosa significa? Significa che oggi in area 3410 è stato sviluppato il maggior numero di contratti. Sono passati 9377 contratti. Se il prezzo fosse riaggredito durante la giornata questa quota andrà a incrementarsi. Se invece il mercato abbandonerà quest'area di prezzo non ci tornerà più e andremo sopra sapremo in in ogni caso dove è stato il supporto principale di oggi che non è stato tanto un supporto di analisi grafica piuttosto che di prezzi ma un supporto proprio di volumi nel senso che i maggiori volumi scambiati sono stati a 9337. Vedete che il mercato poi è andato a scendere anche più sotto ma vedete che sotto 3404 diminuiscono molto i contratti. Non ve ne sono più. E se noi potessimo un attimo approfittare ed estendere questo book al di fuori vedete che sotto 1495 contratti a 3398 il minimo è 3396 in realtà non ci sono stati scambi. Qualora per effetto di news sul mercato il mercato dovesse andare a scendere il vero supporto è poco al di sotto di 3400 prezzo anche tondo e quindi anche un prezzo tecnico perché vedete che gli scambi soprattutto sotto 34006 4200 contratti si va a 2700 poi ce n'è un 404 a 4275 poi calano. Così come vedete che il mercato sta andando a lavorare a rompere una resistenza dopo che ha lavorato forti volumi in area 3418 che sono molto maggiori di quelli fatti a 17 a 16 a 15 perché in termini di ampiezza di contratti 418 è secondo soltanto ai volumi sviluppati fra 4 e 14 4 e 13 ma vedete che tutta la zona dei volumi principali è compressa è qua fra 3410 e 3415 ci sono i volumi di oggi nel caso si tornasse indietro cosa che molto spesso il mercato fa nei momenti uno riesce a trovare una direzione sicuramente andremo a toccare questi livelli di supporto. Interessante anche vedere poi come si sono svolte le contrattazioni nel senso dove in che momento sono passati i contratti più rilevanti in questo senso in questo senso ci aiuta la struttura del time and sales che andiamo a prendere da qua. Si il time and sales può mettere in ordine i volumi secondo la dinamica delle contrattazioni secondo per secondo 25 sono passati qua poi 5 poi 6 poi 4 7 sono volumi vedete adesso sono passati a 416 26 contratti 17 altri 26 contratti poi 3 più 2. Quando il colore del prezzo è verde significa che i contratti sono passati con uno slippage sfavorevole al comprato nel senso che il compratore ha pagato normalmente un punto in più rispetto a quello che normalmente doveva pagare che significa i compratori premono in acquisto in maniera tale da andare sostanzialmente a spingere pur di entrare sul mercato acquisti ad un prezzo anche di un punto in questo caso loro sfavorevole. Quando invece i prezzi come vedete in questo momento sono tutti neri significa che la domanda e l'offerta si incrociano rispettivamente al prezzo. Questi 10 contratti sono passati dal 946 29 al 3418 sono 10 proposte in acquisto che hanno trovato 10 proposte in vendita e viceversa. Quando invece il prezzo è rosso significa che il venditore è stato soddisfatto ad un prezzo più sfavorevole. Tipico di questi momenti sono quando nelle piattaforme di trading molti trader hanno lo stop in mente non lo hanno già depositato sul mercato per cui quando si realizza quel prezzo mandano via in maniera automatica e discrezionale però anche in questo caso l'ordine direttamente cliccando sul mouse non depositandolo sui server della loro banca della loro sim o della loro piattaforma. Nel momento in cui l'ordine dal nostro computer va poi sul mercato possono passare qualche frazione di secondo qualche decimo di secondo quella frazione per il quale tu volevi vendere a 3416 e ti tocca pagare 3415 per fare un esempio. La dinamica fa del time in sales e fa capire proprio come si sta muovendo la pressione ribassista o rialzista e quindi ci fa capire come si sta muovendo il mercato e questa è un'altra cosa estremamente importante. Al tempo stesso vedete ecco qui è passata una botta a 3413 di 100 contratti e questo sicuramente la presenza di un operatore istituzionale. Vedete che il mercato ha provato a riaggredire le resistenze anche graficamente vi è tornato indietro. Queste resistenze sono rappresentate da un massimo che era stato fatto alle 9 in apertura che coincideva fra l'altro con un minimo di swing organizzato qui sotto. Sul massimo di giornata 3423 abbiamo posto una linea di allarme perché corrisponde anche a questa zona di volumi e corrisponde fra l'altro a questo massimo fatto ieri alle 20 che poi il mercato ha negato andando a pescare in un certo senso qualche cosa più sotto. Questo livello di 3422-23 circa corrisponde al pivot mediano di oggi vedete l'indicazione PIVG e corrisponde anche al livello sul grafico a 5 minuti dove è posizionato per gli operatori short il trailing stop dove girare la posizione con l'indicatore super trend e quindi abbiamo una corrispondenza di livelli di resistenza e di prezzo che anche graficamente e anche in base all'analisi spettrografica sulle barre volume e prezzi dei volumi stessi possono essere interessanti da seguire e questo è uno strumento che vi può aiutare moltissimo per quanto riguarda le contrattazioni ma uno strumento che soprattutto su parametri più volatili chiudiamo adesso un attimo ecco adesso torniamo sul future ecco ho cambiato strumento vi faccio vedere il DAX e future anche sul DAX e future strumento estremamente volatile queste indicazioni sono ancora più importanti da un lato perché ci fanno vedere la pressione in acquisto su ebook e vedete che c'è sempre sul DAX molta più volatilità rispetto che l'Eurostox e vedete che il book evidenza spread 1, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 82 proposte in bid, 93 in ASC ma quello che è più interessante è anche in questo caso vedere dove sono le maggiori resistenze di volumi perché avete proprio questo istogramma che pure in questo caso allarghiamo la colonna il più possibile ecco vi fa vedere dove sono le resistenze vedete che qui chiudiamo adesso l'istogramma sono passati dove sta il mercato lavorando adesso 182 contratti che sono comunque molti meno rispetto ai 125 111 109 107 che sono passati su livelli superiori quindi su questo livello di prezzo 10.932 e il mercato sta facendo del lavoro e che lo ci sia del lavoro non lo vediamo soltanto della dinamica in questo caso molto più frattale molto più random e molto più alternante i contratti passati con sacrificio per i venditori dai contratti passati con sacrificio degli acquirenti questo fa capire proprio la differente natura dello strumento DAX pur essendo nazionario al di là della sua enorme capitalizzazione rispetto alla natura dello strumento lo stocks ma vedete proprio che il DAX per la sua volatilità ben si presta soprattutto in determinati momenti di mercato quali quelli che questi giorni stiamo vivendo a capovolgimenti di fronte estremamente rilevanti vedete che ha sentito la resistenza questa resistenza di prezzi che è stata abbandonata gli scalper che volessero provare a fare delle operazioni entrando a 10.927 ipotizzando che questo sia un livello dove rientrare in acquisto dovranno rendersi conto e questa è un'informazione che vi dà il buco di Prova del Time che qua sopra sono stati scambiati molti contratti per cui probabilmente ci sono anche degli acquirenti che a 10.932 in questo momento stanno soffrendo che probabilmente cercheranno se sono operatori di breve periodo di richiudersi a pareggio appena i prezzi torneranno sopra piuttosto che ci sono stati magari degli operatori che hanno piazzato delle operazioni short questo non lo so non lo possiamo dire possiamo dire che il mercato guardando gli indicatori i nostri oscillatori non ha una direzione precisa ma noi non vogliamo parlare di indicatori oscillatori ma vogliamo parlare di queste opportunità di analisi del buco che dà la piattaforma una cosa carina che dà la piattaforma che in questo caso è il time in sales e anche in questo caso come nell'euro stocks possiamo cliccare sulla colonna ora e chiedere di al time in sales e di ordinare i contratti per volumi passati vedete che in apertura 10.875 sono passati 125 contratti il resto invece se volessimo ordinare per volumi sono contratti 10.940 sono passati 17 a 900 sono passati 4 vedete che il 932 richiamato prima 931 e 5 alle 950 13 contratti vedete che molti contratti sono passati in area circa 10.900 e un po' di contratti sono passati fra 930 e 940 identifichiamo pertanto un box 10.900 come supporto andiamo a cliccarvi sopra circa 10.940 come resistenza potremo in base all'analisi dei volumi utilizzare questo box duplicandone la sua estensione in alto e in basso 950 940 sono circa 35 punti 35 punti da 940 si va a 970 70 75 circa dove incontreremo una resistenza di prezzo data al pivot e mediano 35 punti al di sotto i 935 torneremo a trovare la zona dei minimi di ieri di 870 mi auguro che questo video vi abbia dato degli spunti interessanti e auguro a tutti una buonissima giornata grazie a tutti